Lo specchio. Mi sono accorto che molti hanno capito l'insegnamento dei maestri molto più di me e allora mi sono chiuso in un appartato silenzio. Commento. E hai fatto male, perché solo ferendo il tuo io nel confronto con gli altri puoi conoscere meglio te stesso. Infatti, solo attraverso gli altri puoi guardare dentro lo specchio in cui tu rifletti gli altri e gli altri riflettono te.